E' un buio? Ma guarda questo! Oh no! Sabri! Oh sì, per forza! Ma no! Se non me levo le scato! No, no! Disgraziato! Ma no, ma non lo prendo più ormai! Per me sono più di uno, Sabri! Giovanni la Paschmina! Guarda a sinistra! Giovanni quella non guarda! Guarda che bello questo stagesso! Sei in capo! E' proprio bello lo stagetto! Ma che mi ha preso la sciata? Che bello, veramente! Ma quanto basta? Un euro questo! 50 e 50! Non so come dirtelo, ma sì! Ma chissà dove Giovanni! Oddio! Ma chissà dove! Ma dove sarà? Ma tu hai capito che... Cioè ci sono i multipli di Giovannino! No, non è qui! Cioè Maria? Eh, ci sono i multipli di Giovanni! La giudia popolare dice sì! Anzi no! All'86%! All'86%! Grazie a tutti.